Un corridoio verde come questo ce lo invidierebbe mezza Italia. Avviamo in fretta i lavori perché questa ciclabile diventi un collegamento tra i quartieri. Un bel progetto che non va a compromettere la ferrovia perché a lato. Inizia con le parole del sindaco Seri il video dal titolo Che spettacolo che ha come obiettivo di iniziare al più presto i lavori nel primo tratto di ciclovia tra Fano e Tavernelle di Coglie al Metauro. Alcuni coordinatori delle liste di maggioranza fanesi hanno invitato sindaco e assessori lungo il percorso dell'ex ferrovia Fano Urbino nella parte compresa del territorio comunale per approfondire meglio ogni aspetto e per percorrere quel tracciato in tempi brevi. Questo tracciato al momento è in situazioni di degrado ma si vede come è nel verde e in maniera molto rapida e sicura sistemandolo si può attraversare la città collegando i quartieri. Abbiamo l'opportunità di farlo perché il percorso già esiste e con interventi semplici possiamo creare davvero qualcosa di utile a tutti per la nostra città. Un progetto fattibile grazie ai 4,5 milioni già stanziati dalla precedente legislatura regionale che permetterebbero la realizzazione immediata di circa metà del percorso. Tra l'altro ci dicono questa infrastruttura incentiverebbe anche il turismo in un percorso immerso nel verde che dalle colline arriva fino al mare. Questa ciclabile potrebbe collegarsi benissimo con adesso la futura ciclabile che verrà fatta ciclopedonale sull'Adriatica. Potrebbe essere veramente una possibilità per il turismo appunto che si avvale delle due ruote di poter frequentare sia il lungomare e anche quello di potersi poi addentrare nell'entroterra nostro bellissimo, la nostra bellissima vallata del Metauro. Secondo noi è una cosa da fare e da non perdere tempo per poter sviluppare anche questo territorio che ne ha tanto bisogno. Nei prossimi giorni verrà presentato anche un ordine del giorno all'interno del Consiglio Comunale. Sì, a breve presenterò un ordine del giorno che invita l'amministrazione regionale ad avviare subito i lavori per questa importantissima infrastruttura sotto tantissimi punti di vista. ricordiamo che abbiamo già 4,5 milioni stanziati che finanzierebbero più di metà dell'opera e non possiamo lasciarci sfuggire questa possibilità.